Frammenti è un progetto unico, è un film assolutamente unico nel suo genere perché è stato il primo film interamente girato con una scuola. Io frequento il quinto anno del liceo artistico Sarandi a Roma, nella zona del Tuffello e l'anno scorso, in realtà due anni fa, abbiamo cominciato a scrivere questo film insieme ad altri cinque ragazzi. Eravamo partiti dall'idea di realizzare un film ad episodi, cioè ognuno dei sei ragazzi avrebbe raccontato la sua storia. Poi l'idea perché non fare invece un po' come in un grande arazzo, l'arazzo è fatto di tanti fili di colori diversi, basta metterli insieme in un progetto, in un disegno armonico e poi guardi con stupore quello che ne nasce da questo intreccio. In questo film parliamo fondamentalmente di gente umile, di gente comune, che abita la periferia romana, nonostante tutte le difficoltà, nonostante i luoghi comuni, ecco, nonostante i luoghi comuni, il pensiero generale, nell'immaginario comuni che si affibbia alla periferia, al concetto di periferia, in realtà appunto abbiamo mostrato quanto tra le varie difficoltà si riesce a cogliere quel bene, che è un bene che non trovi molto spesso e non in molti altri posti. Diciamo che una delle cose più importanti che questo film e questo progetto ha fatto per me è stata quella di farmi capire diciamo un po' che direzione voler dare alla mia vita. Per me è molto importante che le biblioteche si occupino di cinema oltre che di libri e mi fa molto piacere essere presente appunto a una iniziativa del genere. Ma il cinema si comincia a fare qui, entrando in una biblioteca, aprendo un libro, cominciando a leggere tu vedi quello che l'autore di quel libro ha immaginato scrivendo. Sicuramente la biblioteca appunto è un luogo che può sostituire o accompagnare la sala cinematografica perché oltre alla proiezione spesso si possono organizzare magari incontri con gli autori come sta avvenendo adesso si può aprire un dibattito, cosa che magari nelle sale, nelle multisale soprattutto non avviene. Il cinema nelle biblioteche è questo, proprio un invito a continuare a stare insieme così come il cinema quando va in sala perché poi il cinema è questo, il cinema è vita è quella vita che è intorno a te, che tu vedi e ascolti e diventa tua.